26 maggio Il cuore è ingannevole più d'ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Geremia 17, 9 Diagnosi spirituale La scienza medica ha fatto notevoli progressi negli ultimi decenni. Malattie una volta incurabili, oggi sono diagnosticate e curate in tempi sufficientemente rapidi. Tuttavia, nessun rimedio umano può curare e ancor meno debellare le malattie spirituali che affiggono l'uomo separato da Dio a causa del peccato. Le parole del profeta Geremia possono essere paragonate ad un referto medico. Dio stesso, dopo aver esaminato il cuore dell'uomo, ha diagnosticato, incurabile. La diagnosi è, però, seguita dal rimedio. Questo cuore, così profondamente malato, deve essere sostituito mediante uno straordinario trapianto che solamente il perfetto chirurgo dell'anima può effettuare, con il bisturi della sua parola. Attraverso un altro profeta, infatti, Dio afferma ancora e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Se vuoi che il tuo cuore insensibile inizi a battere per il Signore, confessa il male che è in te e arrenditi Cristo. Egli creerà in te un cuore nuovo, sano, capace a fare il bene e di prendere piacere nelle sue vie. Fidati di Lui, oggi.